Niente autista ha parcheggiato in ultima fila l'auto personale e prima di mettersi al lavoro ha salutato uno per uno i dipendenti degli uffici. Questo è il debutto in assessorato per Donato Pentassuglia. Sul tavolo ha trovato diverse patate bollenti. La scadenza del contratto per 24 lavoratori del call center sugli screening obbligatori legati alla prevenzione oncologica e poi la trattativa sul patto per la salute giunta alle battute finali. Mercoledì a Roma si firmerà il riparto dei fondi nazionali della sanità dopo la sofferta intesa con le regioni. La Puglia dovrebbe guadagnare 100 milioni di euro in più sul 2013 ma i criteri di suddivisione della torta sanitaria premieranno ancora una volta il Nord. Assessore, primo giorno di scuola qual è l'impatto? Come a scuola. Emozioni contrastanti, preoccupazioni per la responsabilità del ruolo. Sapendo di avere una responsabilità diretta su alcune questioni. L'assessore punta a riformare il modello del 118 e dell'emergenza urgenza ma soprattutto a potenziare l'intesa con i medici di famiglia. Abbiamo bisogno con loro di verificare sul territorio qual è la rete esistente, quali sono i servizi da implementare perché tramite loro noi possiamo parlare o abbattere quelli che sono i problemi, i termini della inappropriatezza, della inadeguatezza e anche di alcuni numeri che specie su alcuni profili delle liste d'attesa vanno molto molto attenzionati.